Io sono il signor Venturi Olver nato ad Alfolsine Ravenna il 24 11 1944 e lavoravo in segheria facevo le cassette ho avuto l'incidente purtroppo mi è caduto del legno nella schiena mi hanno portato all'ospedale lì a Lugo di Romagna però ero grave che aveva qualche giorno di vita e di lì dopo mi hanno portato al centro traumatologico ortopedico di Bologna, al CTO di Bologna e di lì piano piano c'è stato tre mesi e lì invece mi avevano dato 50 giorni di vita purtroppo si erano sbagliati con 50 anni 50 giorni quando sono venuto qui l'8 giugno del 1961 al CPO di Ostia e lì ho cominciato a capire a vedere tutti questi ragazzi che erano erano tanti erano 40 50 60 il CPO era Inail guidato dal professor Antonio Maglio che veramente io devo 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 la vita devo devo tutto se sto in queste condizioni devo 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 a lui che veramente poi specialmente i giovani ci voleva un bene un bene un bene da morire a noi poi tu devi fare questo la schia io facevo schermo più in pompa da canestro facciamo e facciamo un po di tutto te devi fare questo devi fare quest'altro Antonio Maglio ci trattava veramente con i guanti bianchi ci dava il timballo ci dava frutta doppia ci dava tutti a noi andiamo al mare a fiumicino veramente io gli devo povero anche lui Antonio Maglio ci ha lasciato troppo presto anche lui quello che sono stato o non pensa mai però io sono stato anche undici anni campione d'Italia di tenni di Zatala più in po' ho vinto le medaglie vedete però non mi sono mai mai vantato mai vantato come davo la medaglia mettevi a cosa dell'Iner Maglio poi come ci teneva tutto in regola c'eravamo un guardarobo con 9 10 donne che pulì che cenevano le tutte le cose quando andavamo fuori Inail Italia Inail guardi è stato grandioso sono stato campione del mondo di sciavano nel 75 nel tennissatavolo sono stato qualcuno sono stato anche 11 anni campione d'Italia da Firenze a Modena a Savona a Venezia insomma ho girato 11 città e lì veramente sono diventato proprio proprio qualcuno insomma sempre dice alla fine è sempre Venturi è sempre venturi è ancora è sempre venturi però sto fa chi mi premiava e poi dopo alla fine concludendo io ho fatto allenatori giocatori allenatori di pallacanestro e ho insegnato tre ragazzi voglio la seduta stare in carrozzina a palleggiare e a tirare lì ci vuole dei mesi per mettere uno normale un po gli c'era una gambetta più fino però la schiena è buona però purtroppo io ho seminato e il santa lucia ha raccolto Ostia è una cittadina sì che si addice perché non so se lei la conosce è pianeggiante io vado a fare specie vado alla banca vado alla posta vado tutto veramente è una cittadina che c'è tanti ci siamo fermati qui io perché mia moglie è stata assunta al cpo secondo il clima il clima che confronto a Ravenna qui Ostia il freddo e il terzo per stare vicino al cpo il resto della mia vita è che il signore mi rimane qui non chiedo dai di viverla come ho vissuto questi 55 anni non chiedo altro